E' uno dei leader carismatici della piazza anti-Putin. Il blogger e avvocato russo Alexei Navalny ha fatto sapere con un tweet di essere stato incriminato per la terza volta nel giro di cinque mesi. E' accusato di aver sottratto 100 milioni di rubli, equivalenti a 2 milioni e mezzo di euro, nel 2007 al partito dell'Unione delle Forze di Destra, attraverso una società che dirigeva, l'Alekt. Il blogger rischia dieci anni di detenzione. Il comitato investigativo di Mosca riassume i fatti così. L'Unione delle Forze di Destra e la società, l'Alekt, conclusero un accordo per la fornitura di servizi pubblicitari. Furono depositati 100 milioni di rubli su conti intestati ad Alekt. In seguito la società di Navalny trasferì il denaro ricevuto sui conti di società che per la maggior parte sembrano essere false o sono quel tipo di compagnie che nascono e muoiono in un giorno. Navalny è stato già accusato di presunta appropriazione in debita ai danni di una piccola società che commercia legname. Rischia anche in questo caso sino a dieci anni di carcere. In una seconda indagine è stato accusato di riciclaggio di denaro in una vicenda riguardante le attività di una piccola società di trading.